Benvenuti, cari follower. Un forte terremoto ha colpito l'Italia questa notte, mercoledì 29 novembre 2023. I residenti lo hanno sentito. Ma prima di entrare nei dettagli, se sei interessato alle notizie sui nuovi terremoti, premi il pulsante Mi piace per questo video. Iscriviti al canale e attiva la campanella su tutte le notifiche, in modo da ricevere una notifica immediatamente dopo ogni nuovo terremoto che si verifica in Italia. Se la terra trema forte nel centro Italia questa sera, mercoledì, e questo avviene nell'ora speciale e 45 minuti della sera. Secondo il Centro Sismologico Europeo, il terremoto è avvenuto in provincia dell'Abruzzo, precisamente a 22 chilometri, a sud-ovest di Teramo, 60 chilometri a ovest di Pescara, e ad una profondità di 16 chilometri sopra la superficie terrestre. Secondo il Centro Europeo per il monitoraggio dei terremoti, l'intensità del terremoto ha raggiunto circa 2,8 della scala Richter e gli abitanti hanno avvertito una chiara scossa durata alcuni secondi. Fortunatamente il terremoto non ha causato alcun danno, solo lievi scosse. Qualsiasi altra notizia importante proveremo ad aggiornarvi più tardi.